Tutto ebbe inizio qui, da un'idea, luminosa come la luce di una lanterna. Qui, dove mare e montagne si contendono un'aspra lingua di terra. Genova, una città ricca di storia, forgiata dall'incontro di culture diverse, operosa e vitale, dove gli artigiani nelle botteghe lavorano i prodotti con mani esperte. Maniche da ingredienti semplici, genuini e selezionati, danno vita alla focaccia genovese. Farina, acqua, malto, sale, olio extravergine d'oliva. Cinque ingredienti che creano un piccolo miracolo per il palato. Una ricetta capace di raccontare Genova così bene, che volevamo fosse amata ovunque nel mondo. Quel desiderio si è realizzato. Da un primo panificio, oggi siamo una realtà internazionale. La nostra focaccia, con il suo profumo intenso, il colore dorato e il sapore autentico, può essere gustata ovunque, grazie all'esperienza dei maestri panificatori e alla tecnica della surgelazione. Bastano pochi gesti e un forno e sarà come ritrovarsi a Genova. Passeggiare sul molo, godersi un tramonto e il suono delle onde del mare. Se non è magia questa, è lanterna.